Dopo le consultazioni col Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia chiede al ritorno alle urne. Le elezioni per Fratelli d'Italia sono oggi, e lo abbiamo ribadito al Presidente Mattarella, l'unico esito possibile, l'unico esito rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e voglio anche dire l'esito più rispettoso della Costituzione, perché nei lunghi dibattiti di questi giorni a chi di noi chiede le elezioni si risponde, beh, insomma, approfondite la Costituzione, perché la Costituzione prevede la necessità di verificare da parte del Presidente della Repubblica che in Parlamento vi sia una maggioranza, ma la verità è che il Presidente Mattarella si trova costretto a scegliere o comunque a tenere in considerazione due diverse prescrizioni costituzionali. Quella di verificare che in Parlamento vi sia o meno la maggioranza per un Governo e quella data dall'articolo 1 della Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo. Le parole del Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti dopo le consultazioni al Quirinale. Abbiamo espresso al Presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova e per dare vita a un Governo nel segno della discontinuità politica e programmatica. Per noi non si tratta di una scelta facile, anche a causa di un'eredità pesante che ci ha lasciato il precedente Governo. Ovviamente, se non dovessero esistere queste condizioni, e abbiamo ribadito al Presidente Mattarella, queste condizioni tutte da verificare allo Stato attuale, lo sbocco naturale della crisi, sono nuove elezioni anticipate alle quali il Partito Democratico è pronto. Grazie. È morta a Treviso una giovane madre nigeriana di 29 anni, a cui era stato diagnosticato un tumore a inizio gravidanza e che aveva volontariamente scelto di sottoporsi ad una chimioterapia più leggera per far nascere sana la figlia. Poco dopo essere rimasta incinta, la ragazza aveva scoperto, dopo alcuni esami di routine, di avere un tumore al seno. Aveva quindi optato per un percorso terapeutico meno invasivo, allo scopo di salvaguardare la salute del bambino, rimandando le cure più pesanti dopo il parto. La bambina è nata in perfetta salute, ma purtroppo le cure non hanno funzionato e la madre è deceduta tre mesi dopo la nascita della figlia. È successo in Germania. Un bambino di otto anni ha rubato l'auto ai genitori e ha raggiunto i 140 km orari su un'autostrada di notte, parcheggiando poi senza causare danni. La curiosa storia è stata segnalata dalla pagina Facebook della polizia di Zöst e poi approfondita dal sito della BBC. Non era la sua prima volta al volante. Il piccolo aveva già guidato automobili in spazi privati e con regolarità anche go-kart e autoscontro, ma la velocità raggiunta lo ha spaventato, inducendola ad accendere lampeggianti, parcheggiare in una piazzola di sosta e una volta fermo, piazzare il triangolo dietro la macchina. Allora arrivo, gli agenti di polizia lo hanno trovato in lacrime e il bambino si è giustificato dicendo che voleva solo guidare un po'.